Con un paragone ardito riferito alle prossime elezioni regionali, l'edizione odierna del Corriere della Sera paragona il Molise all'Ohio, considerato tra gli stati americani una sorta di stato indovino, capace di leggere in anteprima le carte di repubblicani e democratici e divinare quindi il nome del futuro presidente, uno swing state, come dicono da New York a San Francisco, capace di interpretare le oscillazioni dell'elettorato e quindi i destini del paese. Così, secondo il Corriere, sarebbe il Molise rispetto al quadro generale della politica italiana, un termometro capace di misurare il gradimento del governo Meloni e quindi l'eventuale grado positivo o negativo dell'oscillazione legata al centrodestra nazionale. Stessa aspettativa espressa oggi sulla stampa di Torino dalla neosegretaria del Partito Democratico, Ellish Line. Insomma, riflettori accesi sul Molise, che nelle speranze dei progressisti, dopo le sconfitte di Lombardia, Lazio e Trentino, aspettano che dal Molise-Ohio giunga un segnale di inversione di tendenza. In attesa di scoprire come andrà a finire, un segnale il Molise lo ha già dato, più che alla nazione, a se stesso. Quello di una svolta rispetto alle scelte effettuate negli ultimi dieci anni, con l'indicazione di Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, a candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione Molise e quella, altamente probabile, di Francesco Roberti, sindaco di Termoli, a candidato per il centrodestra, il Molise sceglie di tornare alla politica. Una sfida tra sindaci e amministratori, entrambi con esperienza, la politica si riappropria di un ruolo centrale nel governo del Molise e soprattutto nella scelta del vertice della regione. Accanto alle due leadership si sta muovendo parallelamente tutto un parterre di amministratori intenzionati a scendere in campo, fattore che, oltre le coalizioni e i colori politici, va salutato positivamente. Insomma, in attesa di capire se il Molise sarà il 51esimo stato della confederazione americana, i molisani possono accontentarsi del risultato raggiunto per il momento. La politica è tornata, adesso toccherà ai politici far capire ai cittadini se si tratta o meno di una buona notizia.